Sì, mister, buonasera, Eugenio Alunni, Infopress, Corriere dello Sport. Volevo chiederle quanto è soddisfatto di questo 0-0 e se le è piaciuto l'atteggiamento della squadra nel secondo tempo dopo i cambi. Grazie. Sì, sono soddisfatto sicuramente dell'atteggiamento, sono soddisfatto della voglia dei ragazzi di dare qualcosa in più che abbiamo chiesto sotto il profilo dello spirito della cattiveria agonistica, della fame, della voglia di non prendere gol e questo sicuramente oggi mi ha portato ad essere contento e ovviamente poi mi aspetto il successivo miglioramento che è con la palla di cercare di essere un po' più lucidi, di sbagliare un po' meno, di prendersi un po' più di responsabilità però come già ho detto prima della partita, quello è un aspetto che sicuramente si può migliorare l'aspetto interno, l'aspetto interiore, l'aspetto di quello che poi tu vai a percepire dall'interno è difficile da allenare quindi mi hanno dimostrato i ragazzi che ce l'hanno e quindi lo voglio vedere sempre si parte da quello, poi il resto lo andiamo a migliorare Ciao mister, buonasera Ti chiedo cos'è la cosa che ti è, oltre all'atteggiamento, che ti è piaciuta di più e quella che magari ti ha lasciato un po' più perplesso magari all'inizio, anche stavolta lo Spezza ha approcciato un po' meglio, però nella seconda parte del primo tempo c'è stato anche il palo di Esteves e altre occasioni nella ripresa anche con la portata Noi quando giochiamo sappiamo che affrontiamo degli avversari perché se no sembra che giochiamo da soli e lo Spezza ha dimostrato di essere una squadra forte, come abbiamo detto è una squadra che ha iniziato in maniera forte e quindi ci sta che noi in quel momento lo subiamo un po' ma questo non vuol dire sbracare, non vuol dire perdere fiducia ma vuol dire stare appunto nella partita, capire che in quel momento magari c'è stata di soffrire un po' e poi dopo devi cercare con un po' più di qualità, un po' più di lucidità a portare la partita un po' come vuoi tu è stata una partita molto tirata perché è una partita dove magari c'è stata poca qualità credo in ambe le parti, è stata una partita un po' più sulle seconde palle eccetera i derby sono sempre un po' tesi, portano sempre un po' più di tensione e quindi va bene così, oggi serviva questo Ministro buonasera, due considerazioni, in primo il derby un po' in tono minore chiaramente perché si è giocato a Cesena al picco quindi chiaramente è un derby in tono minore e poi l'altra considerazione, il Pisa ma soprattutto lo Spezia hanno avuto questa partenza un po' a rallentatore magari un po' al di sotto delle aspettative, ritiene che anche alla luce della prestazione odierna e entrambe le squadre possono traguardare comunque degli obiettivi che vadano oltre la salvezza? Guarda, io posso parlare del Pisa, lo Spezia non conosco le dinamiche, le situazioni eccetera ti posso parlare del Pisa, è una squadra che ha avuto diversi episodi che l'hanno un po' penalizzata detto questo che gli episodi possono essere gli episodi di campo, gli episodi di infortuni, gli episodi delle squalifiche negativi che sono successi all'interno di queste otto giornate detto questo probabilmente potevamo avere qualche punto in più e se non l'abbiamo è di merito nostro perché ci siamo a volte complicati la vita da soli però è una squadra che ha anima, che ha cuore e che se migliora dove secondo me deve migliorare sicuramente può fare un campionato importante Salve mister, buonasera, c'è un giocatore nello Spezia che probabilmente conosce meglio di noi perché non l'abbiamo ancora potuto vedere chi è Corradini, che giocatore è? Lei l'ha definito un ragazzo molto interessante, che cosa può dare secondo lei a questo campionato? Corradini ce l'ho nel cuore, posso parlarti bene da adesso fino a domani è un ragazzo che mi ha dato grandi soddisfazioni, è un ragazzo che ho visto crescere calcisticamente che con me sta vivendo un po' quello che sta succedendo qua ovvero i primi sei mesi con me non ha praticamente mai giocato però ha tenuto duro, si è allenato, è migliorato e dopo è uscito fuori un giocatore determinante per quella squadra quindi io credo che lo Spezia ha acquistato un giocatore per me molto interessante ti chiedo due cose, una sull'episodio dell'ammunizione a Elia poi l'arbitro viene chiamato dal VAR e viene tolta l'ammunizione forse qualcuno si aspettava il rosso, visto una dinamica simile se non posso dire una cosa inesatta a quella dell'espulsione di Reverb come hai visto l'episodio secondo me è di Modena di Modena perché non lo so, non ti so dare una risposta ma secondo me non la sanno neanche loro nel senso che succede che lui lo chiamano al VAR presumo che gli dicono se tu fischi fallo è rosso altrimenti non devi fischiare fallo però a Modena il contatto di Hermanson non si vede e quindi ci hanno detto se non si vede noi dobbiamo darlo per buono perché non abbiamo la certezza che era fallo oggi non l'ho rivisto però non so se c'è stata sparata così forte dato che se lui fischia è rosso ha deciso così stazione soprattutto della difesa perché hai cambiato anche l'impostazione hai rimesso titolare Le Verbe che secondo me è stato uno tra i più bravi oggi e come giudichi soprattutto la prestazione di quel reparo? Sì mi sono piaciuti tanto tutti e tre compreso il portiere ma avevo la sensazione che potevano tirare tutte le volte che volevano e non ci facevano gol questa è una sensazione più interna come ti posso dire perché li vedevo concentrati li vedevo sul pezzo e quando è così per gli altri diventa difficile quindi mi sono piaciuti molto quello che ti dico è che con la palla dobbiamo migliorare dobbiamo avere più coraggio dobbiamo cercare di capire meglio quello che poi alleniamo tutti i giorni però già questo è un aspetto che oggi mi fa piacere perché volevo dai loro tre soprattutto questa solidità difensiva e oggi l'hanno dato Alvini ha detto che il pareggio risultato giusto sei d'accordo? alla fine lo 0-0 è lo specchio sì sì penso che sia risultato giusto penso che hanno avuto l'occasione loro l'abbiamo avuto noi poi è ovvio che un episodio la poteva cambiare perché il palo il tiro di Torregrossa o anche le occasioni magari che forse non così nitidi come le nostre le hanno avute anche loro quindi alla fine credo che sia giusto o se ci crediamo un po' di più magari potremmo portare a casa qualcosina in più ma è giusto così Ernesto Torregrossa di nuovo in campo dal primo minuto un derby quindi come tutti i derby una partita combattuta alla fine il risultato secondo te è giusto? se guardiamo il primo tempo il secondo tempo di inizi sì magari il primo tempo meritavano un pochino più loro però siamo stati bravi a resistere abbiamo comunque mantenuto la porta inviolata secondo tempo invece meritavamo decisamente noi abbiamo preso in mano il pallino del gioco abbiamo avuto anche qualche questa settimana anche ho avuto un'occasione per far gol forse la più importante è la partita e dispiace non aver buttato la palla dentro che magari abbiamo parato di un altro risultato ecco in quell'occasione forse pensavi di essere in fuorigioco perché la situazione era proprio al limite no ho stoppato la palla in avanti col corpo la palla mi è rimasta a metà fra il destro e il sinistro se fosse andato di destro l'avrei tirata fuori quindi ho cercato di andare in scivolata in anticipo di sinistro che c'avevo l'uomo però la palla è partita forte però centrale potevo fare di più senti questo pareggio serve comunque nel percorso di crescita di questa squadra e questa squadra piano piano sta trovando la giusta dimensione come dicevo prima mantenere la porta inviolata è un passo in avanti perché dopo la sconfitta di Cosenza per preso subito gol e gol al 97 è stato un duro colpo non è facile infatti all'inizio oggi c'è stato un po' siamo stati un po' timorosi questo entra fa parte del gioco comunque siamo stati bravi a rimanere concentrati e non batterci nei momenti di difficoltà siamo stati uniti i difensori hanno difeso come delle bestie siamo riusciti a pareggiarla ripeto abbiamo preso un palo uno in croce dei pali è un'occasione mia è un'occasione di Piccinini comunque abbiamo avuto delle occasioni poi sta a noi buttarla dentro l'ultima cosa Ernesto 15 giorni adesso per ricaricare le pile poi subito due partite in casa e la trasferta di Venezia sì abbiamo già parlato in ospedatoio adesso abbiamo questi 15 giorni per lavorare per trovare le situazioni tattiche giuste per affrontare Cittadella pensiamo partita dopo partita sappiamo che giochiamo davanti ai nostri tifosi non vediamo l'ora di dare loro una soddisfazione in casa perché ci manca anche a noi sentire il nostro stadio felice la nostra gente felice ci manca e lavoreremo per renderli già felici già domenica Antonio un punto lottato e guadagnato secondo te alla fine è un pareggio giusto o il pizza meritava di più sicuramente noi volevamo la vittoria prima di una sosta magari tornare a casa con la vittoria era diverso che ci manca però diciamo che se non si riesce a vincere l'importante è non perdere per noi era soprattutto per lo spirito per affrontare queste due settimane di sosta nel miglior modo possibile era non perdere per affrontare te l'ho detto queste due settimane in modo tranquillo e cercare di apprendere più certi meccanismi quindi diciamo che è un buon punto soprattutto a livello mentale dopo la sconfitta al 98esimo l'ultima e cerchiamo di di continuare così una partita molto fisica e molto nervosa soprattutto nel finale ma il Pisa ha saputo rispondere colpo su colpo sì diciamo che non ci siamo tirati indietro alla fine la partita era diventata un po' più nervosa nei minuti di recupero però noi ci siamo fatti trovare pronti anche all'inizio abbiamo sofferto un po' però l'impressione di prendere gol in quel momento non c'era ovvio che siamo stati tutti da chi è entrato a chi non è entrato eravamo tutti sul pezzo sotto questo punto di vista e quindi prendiamo questo punto in una maniera positiva e cerchiamo di in modo sereno durante la settimana di lavorare su altri aspetti mantenendo questi due aspetti poi spero che riusciamo a divertirci adesso c'è la sosta e poi tre partite in una settimana di cui due all'arena sì sappiamo che l'arena la vittoria manca da un po' dobbiamo lavorare in modo più tranquillo e cercare di invertire questa rotta perché se riusciamo a trascinare anche il pubblico in maniera positiva ci possono dare una grossa mano grazie a tutti